Lavoro, scuola oppure più semplicemente nulla? Cosa farai a settembre dopo l'estate? Lucio Miceli lo ha chiesto ai giovani delle spiagge di San Leone. Vediamo. Scuola, lavoro o nulla? Cosa pensi di fare a settembre? Devo andare di nuovo a scuola. Un bilancio della tua estate? È positiva, un mare ogni giorno, sera a San Leone. Studio sicuramente, speriamo anche un po' di nulla. Come ti prepari ad affrontare il ritorno alle vecchie abitudini? Adesso devo studiare un po' per cercare di spolverare la memoria e dopo comincerò di nuovo ad andare a scuola. Dopo quest'estate è passata così abbastanza bene, sicuro è tornata anche al lavoro. È bello rivedere le persone passate che non si rivede da tanto tempo, piacevole. Se potessi andare in pensione adesso e poi dopo lavorare lo farei, se ci fosse una legge possibile che rendesse questo possibile. Per cui a me non piace molto lavorare, vorrei solo ozziare dalla mattina alla sera. Però il lavoro è vita e anche quindi si fa. E con che stato d'animo tornate a scuola? Sicuramente con la voglia di fare molto, non so se ci riusciremo, però la voglia c'è già. L'importante è l'impegno. Dopo questi tre mesi d'estate ormai sono un po' stanca, quindi c'è un pochettino di voglia di riprendere le vecchie abitudini. Mi sarà un trauma tornare agli studi? No, no, perché vado a fare una cosa che ho sempre sognato di fare, quindi problemi non ne ho. Ritorno? Ma io devo ritornare in Germania, allora sarà un po' diverso, ma non c'è problema, ritorniamo al freddo. Com'è trascorsa la vostra estate? Bene, mare, mare, mare. E con che stato d'animo affrontate il ritorno al lavoro? Una tragedia, una tragedia purtroppo.